Ciao a tutti, questi sono le galline e i galli che sono i miei guardiani dell'orto che mi avvisano delle persone che non devono entrare nel mio orto e quest'anno ci saranno tanti video perché devo ristrutturare un ripostiglio per rimettere i miei trezzi dell'orto e quest'anno il mio orto sarà smart, tecnologico perché sarà bellissimo sempre in blu e in grigio perché sempre in stile Minecraft però sarà stupendo, sono tanti recinti e ci saranno tanti video perché sarà da quando sarà vuoto il ripostiglio a quando sarà bello in ordine pieno con tutti i miei trezzi marchiati così nessuno me li può toccare Ciao a tutti, buona notte, ciao ciao ciao